Test di registrazione video a 1080p con Meizomix 4 per tutto Android.net Facciamo una pan veloce, un cambio di luminosità, rimettiamo a fuoco, passiamo ad una macro molto velocemente, l'autofocus non funziona poi così bene, bisogna mettere a fuoco con un semplice tap. Torniamo a un cambio di luminosità, spostiamoci un attimo in una zona in cui la luminosità sia maggiore, qui contro sole, mettiamo a fuoco sul prato. Ok, per questo video direi che è tutto, un saluto a tutti i datori di tutto Android.net Questo era un test di video a 1080p con Meizomix 4 Test registrazione video con Meizomix 4 in notturna 1080p per tutto Android.net Facciamo una panoramica veloce proviamo a fare un attimo una macro, qui mettiamo a fuoco con un tap, vediamo se riusciamo qui che è un po' più illuminato, facciamo un'altra panoramica veloce, rimettiamo a fuoco, andiamo a fare uno zoom con un pinch out, che va a metterlo a fuoco. Direi che per questo video è tutto, questo era un test con Meizomix 4, registrazione video a 1080p in notturna per tutto Android.net